Ok ragazzi, è iniziata la finale di Champions League, mi sto veramente caccando sotto, quindi dai ragazzi, in casi estremi c'è Pingu Sciamano qua pronto a colpire, ti prego un anno a non farmi caccate, Holland sta buono eh, sta cuccia, sennò ti pico con il telecomando, mi sono partite anche le cuffie, va bene, dai ragazzi, madonna mia Gekko che scatta, no no, non si castira al nonno, niente, mi sa zarrotto al nonno, pazzesco, 10 secondi, non gli ha dato la pensione, è passato due minuti, non è che possiamo andare ai calci di rigore e diciamo se la chiudiamo, no no, no. Domani mattina c'ho un esame, devo svegliarmi alle 6 di mattina, farò le 6, farò le 6 proprio così per editare, un medico. Fuori gioco di Holland, fuori gioco, madonna mia, Holland è l'azzato con una balia, spaventoso. Eh vabbè, Marginiak, però c'è la mamma tr*****a, lo dico, perché questa non fa lo che andiamo a casa. Gekko Terzino, bravo come Allegri ti hai segnato, bravo Gekko. Oh che brutta, no, no Holland, oh nana, miracoloso, oh nana, occhio questo va quando particcio. Problemi per De Bruyne signori, che da una parte è un'ottima notizia, dall'altra anche perché rifiattiamo, però entra Folden, che comunque non è scarso. Madonna mia, Barella ha vado a giocare di fisico e ha fatto brutto a Holland, mi piace, orgoglio, bravo Nico. Fine primo tempo ragazzi, una sofferenza allucinante, vediamo se Inzaghi cambierà qualcosa, tipo un Lukaku o qualcosa di simile. Speriamo che Holland venga chiuso nello spogliatoio da Acerbi e ci mettiamo nel secondo tempo, madonna mia che ansia. Ok ragazzi, è iniziato il secondo tempo, c'ho un'ansia pazzesca, abbiamo il santo gelato esotico, quindi speriamo che porti fortuna. Prendiamo a fare la macumba doppia definitiva, quindi uniamoci alla forza di mamma Lukaku che è da qualche parte nello stadio a fare macumba con noi. Quindi Gelato Bene Che bada No, nana, sono matto No, no, stai cagate, no, stai cagate, no No Via, per l'amor di Dio Cosa fa questo? Madonna mia, Barella, io sono matto E ringrazio che a Ciavi è diventato un Maldini per un secondo Madonna mia, unana che cerca di fare Manuel Noia nel mondiale del 2018 Aia si ha rotto Geko Geko per terra Bravo, Lukaku, subito la sponda Perché bene, Dunfris No, in mezzo c'erano due nostri, è l'unico suo, pazzesco, scandaloso Madonna mia, Dunfris, è piedi quadrati, c'ho Che cagata Ti prego, Lauti, te prego No, Lautaro, ti venisse il cagotto Madonna mia, Lautaro, tu sei un pezzo di m***a, dico Doccio, no No, che brutta Chiedono un fallo di mano, occhio Gol di Rodri Gol di Rodri Ci sta bene, pensiamo le teste del c***o E' giusto, è giusto Era il destino Ti caghi quel gol, è giusto che perdi la partita È giusto che perdi la partita Di Marco, traversa Di Marco, no, tu, le calco sulla riga Ma non ci credo Di nuovo Lukaku Lukaku sulla linea come quella volta Sanchez Non ci posso credere Ma non ci posso credere Lukaku e Lautaro, andatevene a f***a Aia Madonna mia, Onana ci tiene vivi Onana ci tiene vivi Che Spoden qua ha deciso di diventare Messi Grazie Grazie Lukaku sulla riga Cosa ha preso Ederson? Non ci credo Ederson Ma non ci credo Era il gol dell'anno Calcio d'angolo Dentro anche Onana Dentro anche Onana All in the box Credi che Dentro anche Onana ragazzi Per sparare in Brignoli In Brignoli Camerunense Per la giustizia Se gli dei amano il calcio Devono portare i supplementari Ma va a f***a Ederson de Me Pucco Ciuda Arbitro scandaloso Non è andata una roba giusta Schifoso Ciao